MySame la app per il tuo trattore sempre in contatto con il tuo concessionario di fiducia da qui puoi effettuare una chiamata telefonica ottenere le indicazioni stradali per raggiungerlo essere sempre connessi rimani aggiornato sugli eventi locali e nazionali e sulle news dal mondo same e dal tuo concessionario di riferimento partecipa ai sondaggi per condividere con same e il tuo concessionario la tua opinione e i tuoi suggerimenti potrai connetterti con il sito same per avere informazioni sulla storia del marchio e sulla gamma trattori di corrente produzione MySame sempre più vicini sempre al tuo servizio